buongiorno a tutti allora ancora qualche altro libro questa volta ci andiamo sul leggero e soprattutto su una cosa che è la prima volta che vedo infatti la comporta per curiosità si chiama autoplay the washboard ossia quella per lavare la tavola per lavare allora è un libro molto simpatico sicuramente che non dà geniali indicazioni perché poi la washboard è anche molto intuitiva per noi batteristi però insomma ci sono delle cose piuttosto interessanti i primi passi ma rischio qualcuno non capisce come cavolo fare è interessante poi ci sono anche non so spiega alcuni parte di shuffle questo è simpatico anche con l'aiuto della cassa con quella diciamo di legno oppure anche quella classica la valigia di cartone per poter andare in giro soprattutto se si fa basking e roba del genere e dopo tutto sommato ci sono degli interessanti train beat rock beat steady beat pattern shuffle diciamo c'è un po non ci sono cose diciamo così incredibili c'è una ecco una cosa che mi piace molto è la che mi ha piaciuto molto è la diciamo così bibliografia e anche capire chi suona il washboard adesso ah sì poi questo è interessante il modo di scrivere no a triangoli su e giù mano sinistra mano a destra è anche piuttosto intuitivo è un librettino non è un librone pazzesco però è anche devo dire l'unico che io ho trovato su questo argomento quindi se qualcuno non sa come affrontare la washboard e non c'è nessuno che gliela spiega qui qualcosina c'è aiutandosi magari con il nostro carlo vecchio youtube che può sempre servire però insomma anche questo libro scritto un po di anni fa perché non è giovanissimo adesso abbiamo sempre questi comunque è un libro di sei anni fa non è un libro di ieri ed è interessante giusto perché è una cosa nuova è anche un'altra cosa che dice dentro come personalizzare per esempio quelli campanelli con campanaccio con il piattino o altre cose del genere la washboard per chi magari non ha mai preso in mano questo strumentino che è come diciamo andare in giro con un per noi batteristi andare in giro con un ottavino è simpatico per chi vuole farlo vuole provare e così costa anche poco e eventualmente può essere un acquisto così di simpatia ciao ragazzi a presto